Senatore Consiglio, sono piovute forti critiche nei confronti di quei genitori che hanno deciso di ritirare i figli da quella scuola nel Bergamasco perché c'erano troppi bambini di altre etnie. Lei come risponde? Guardi, è chiaramente una situazione che ha avuto la cronaca nazionale, però questo deve mettere anche in condizione un po' tutti di fare un ragionamento serio del perché sono successe queste cose. Noi avevamo fatto due anni fa, credo circa, una mozione, tra l'altro era stata anche approvata ancora con il governo Berlusconi dove prevedevamo una percentuale di stranieri presenti nelle aule, al massimo il 30%, perché sapevamo già che andava a finire così. Noi avevamo avuto già la sensazione che una forzatura, diciamo, sotto l'aspetto della presenza di questi ragazzi e di questi ragazzini nelle scuole, una massiccia presenza, portasse poi a delle problematiche di questo tipo. L'abbiamo denunciato, nessuno ci ha ascoltato e questo è il risultato finale. Qual è però il problema di fondo? Che ci troviamo con dei genitori che non obbligatoriamente votano Lega, che hanno portato i ragazzini a scuola, che si trovano ad avere un'educazione probabilmente un po' limitata perché c'è qualcuno da recuperare di questi altri ragazzi. E quindi la preoccupazione da parte dei genitori di non avere un'adeguata preparazione per i loro bambini. Altra considerazione molto semplice, perché non è solamente la Costa Volpino nel Bergamasco, ma è diventata una questione a livello generale, perché anche a Prato su 20 bambini, 18 erano di etnie diverse. E capisci bene che diventa un problema poi anche di gestione sotto l'aspetto culturale, perché se noi parliamo di scuole abituate in un certo modo, vuol dire che lì va cambiato il sistema della mensa, va cambiato il sistema della cultura anche cattolica all'interno di una classe, cosa ne sarà del presepe, cosa ne sarà dell'albero di Natale, il cibo che si andrà a consumare, cioè tutta una serie di cose che mettono in difficoltà le famiglie. L'avevamo denunciato, l'abbiamo denunciato, continueremo a denunciarlo, però se nessuno ci ascolta non avremo altro che tante coste a Volpino e tante questioni come quella di Prato. Grazie a tutti.